Non dipendendo da noi stiamo facendo il massimo perché si possa raggiungere i risultati, come sapete in mano agli imprenditori che hanno avuto in assegnazione il rilancio di Etellandi a seguito di una procedura di evidenza pubblica, le cose non vanno come avremmo auspicato, ma anche qui sono fiducioso che in zona Cesarini si possa anche rilanciare su Etellandi, il comune è impegnato molto perché crediamo molto che Etellandi è fondamentale per la nostra città, non solo per l'area occidentale, l'abbiamo dimostrato con la mostra, con l'ippodromo, con lo zoo e vogliamo vincere anche su Etellandi, anche se ahimè in questo caso non dipende solo da noi, però ci proveremo fino alla fine nell'interesse della città, dei bambini e anche dei lavoratori di Etellandi che sono molte famiglie che hanno bisogno di avere prospettive solide per il futuro.